I rincari impattanti, se noi consideriamo che la media nazionale dei rincari è pari al 2,74%, gli aumenti che hanno riguardato l'autostrada dei parchi, che quindi incide per l'A24 e per l'A25, stiamo parlando di circa il 13% di aumento, quindi ben 5 volte superiore rispetto alla media nazionale. Noi stiamo dicendo da tempo che invece di lamentarsi ogni anno, perché ormai questa è una notizia alla quale assistiamo sistematicamente ogni anno, occorrerebbe forse intervenire in maniera strutturale, magari prendendo spunto da quello che hanno fatto altre regioni che gestiscono autostrade di montagna, penso al Friuli Venezia Giulia o al Trentino Alto Adige, quindi con Autovie Venete e con l'autostrada del Brennero hanno deciso di cambiare decisamente opinione, quindi sono passati da una gestione privatistica dell'autostrada e da una gestione pubblica. Oggi per andare da Pescara a Roma, quanto si pagherà in più rispetto a qualche giorno fa? Ma l'impatto è notevole, come dicevo prima stiamo parlando di un 13% di aumento e da ogni capoluogo di provincia, dai quattro capoluoghi di provincia, gli aumenti oscilleranno tra i 4 e i 5 euro se noi consideriamo ovviamente il tragitto di andata e di ritorno. E tra l'altro non è un impatto che inciderà soltanto sui pendolari abruzzesi, perché io vorrei ricordare che questa è un'autostrada che collega appunto la regione Abruzzo con la regione Lazio e non è un caso che anche oggi, notizia proprio di oggi, che il governatore della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha deciso di interpellare direttamente il ministro del Rio per chiedere spiegazioni rispetto a questi aumenti che evidentemente incidono anche sui pendolari della regione Lazio. Molti pendolari a questo punto potrebbero ancora di più preferire i mezzi pubblici per recarsi nella capitale dell'Abruzzo? Sì, anche perché noi consideriamo che al momento non ci sono alternative infrastrutturali. Se un pendolare deve recarsi a Roma, l'alternativa potrebbe essere il trasporto ferroviario, però sappiamo bene che la tempistica, i tempi di percorrenza sono ancora, se vogliamo, inaccettabili, nonostante le tante promesse che sono state fatte di interventi infrastrutturali sul settore ferroviario. Ma anche qui c'è il rischio che degli aumenti tariffari possano riguardare anche i collegamenti su gomma.